Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotrico Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico Anche questa puntatona dal colore di retrocomputing, anzi dal sapore di retroconsole Oggi parleremo rapidamente di un mostro sacro delle console Nintendo Entertainment System Una console di gioco ad 8-bit, prodotta dalla Nintendo dal 1983 al 1995 E furono vendute 62 milioni di pezzi in tutto il mondo Praticamente 5 milioni in più degli italiani del 2021 Titoli come Super Mario Bros, Legend of Zelda, Castlevania, Donkey Kong, Popeye, ecc Furono titoli che fecero la storia nel mondo delle console La Nintendo non è un home computer, ma è la degna erede della console Atari 2006 E della Mattel in television Che furono questi due apripista per il mercato degli home computer La Nintendo Entertainment System ha un microprocessore ad 8-bit, prodotto dalla Ricoh, derivato dal MOSS 6502 Che poteva, la CPU, perdono, della Nintendo Lavorare a 1.79 MHz per il segnale NTSC Oppure 1.6 MHz per il PAL SECAM La Nintendo aveva 32K di RAM, ma con la tecnica del Bank Switch si poteva gestire 64K di RAM Sfruttando altri 32K poste sulle cartucce di gioco Sono poi presenti nell'hardware della Nintendo Entertainment System Un coprocessore denominato PPU a 5.37 MHz per l'NTSC e 5.32 MHz per il PAL Per gestire la parte grafica Sino a 64 Sprite Risoluzione a 256x240 pixel Quindi 256x240 pixel a 52 colori Con 6 tonalità diverse di grigio Nella parte audio sono presenti nell'hardware Nintendo Un chip generatore di suoni a 5 canali audio Un generatore di umore bianco con 16 livelli di volume Poi c'è anche un canale DPCM a 6 bit di persone Campionati a 4.2 oppure a 33 MHz In Giappone Anche in America e in Europa Le software house esterne erano obbligate ad acquistare da Nintendo una licenza Per pubblicare i giochi su cartuccia per la console Nintendo Tuttavia Alcune software house trovarono un modo per eludere le licenze Nintendo Poi passandola ai circuiti di hardware di bordo della console E riuscendo così a pubblicare i giochi per la Nintendo Entertainment System Disabilitando il chip 10S che abilitava appunto solo i giochi dotati di licenza Nintendo Entertainment System è un mosso sacro delle console di gioco Una console che non può mancare in una collezione di retrocomputing La Nintendo Entertainment System si trova anche in versione replica su Amazon Segno che questo giocattolino della B console ha lasciato un'impronta indelebile Nei cuori dei suoi 62 milioni di utenti Che la comparano dal 1983 al 1985 Per questa puntata è tutto Un saluto Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima